Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Hell Architect Demo perché all'inizio pensavo fosse un'anteprima del gioco completo, poi ho scoperto che invece è la demo che è disponibile da pochissimo per tutti su Steam. Il gioco non è ancora uscito quindi non so direvi un prezzo di quello che sarà il prodotto finale o almeno in Early Access, ma lo potete scaricare anche voi dalla pagina Steam. Che cos'è? È un mix per quanto riguarda il nome, mi ricorda Prison Architect, invece per quello che riguarda la grafica mi ricorda più un Oxygen Not Included, misto a qualcosina di Don't Starve per quanto riguarda i disegni. Al momento è giocabile in inglese, ma se guardate la pagina Steam noterete che c'è anche l'italiano, quindi si prevede un arrivo anche in italiano, è giocabile la carriera, lo proviamo, non so fino a che punto la demo sia demo, però va bene. Ah, un altro fallimento, cioè intendo candidato per il posto di manager dell'inferno. Benvenuto, io sono Frank e ti guiderò durante questo periodo di prova. Le nostre finanze stanno soffrendo. Sono ottenute torturando i peccatori. Troverai l'ammontare di questa valuta in alto con l'icona del teschio. Ok. La barra delle risorse ti permette di controllare le condizioni dell'inferno. In alto, nell'alto dello schermo, ci sono informazioni a proposito di terra, carbone e metallo. Terra, carbone e metallo. Poi c'è lo still, i cristalli blu, i cristalli gialli, gli ingredienti, il cibo, insomma, le bevande. Va bene. Vabbè. Legge dell'inferno 665. Per muovere la mappa, usare VASD. Ok. Vedete, questo ricorda molto... Oxygen not included. Ora sei pronto con le basi. Scava un po' di risorse. Va bene. Con l'icona scava. No, quello che mi ricorda Don't Starve è questo. Build. Vedete? Queste, diciamo, edifici, un po' così. Però, vabbè, non c'entrano niente. Anche, vabbè, l'altro gioco che non mi ricordo, il gioco dei nani. Vabbè, comunque, digga. Gli faccio scavare un po' di metalli, qui. E loro si mettono già al lavoro e scaveranno quelle risorse lì. Intanto, vedete che sono fatti proprio con una censura minima. Al momento trovo la grafica abbastanza stilizzata. Però diciamo che non è che possiamo dire che in fondo c'è l'inferno, perché siamo già all'inferno. Arriveranno i prossimi peccatori tra 8 minuti. Quindi vedremo che cosa succede. Intanto, dobbiamo recuperare terra. Siamo già quasi al massimo, a 50 che ci chiede. 15 di carboni e 10 di metallo. Ci stiamo adoperando. Adesso voglio vedere se lo fanno cadere, ma va bene. Se clicchiamo su uno di questi, lo possiamo vedere. Possiamo vedere i suoi tratti, le sue abilità. Cooking, crafting, digging, researching. Ok? E qua invece vediamo la fame, la sete, il sonno, la fatica. Insomma, i loro bisogni. Congratulazioni, hai accolto tutte le risorse richieste. Ora, per il prossimo passo. Che cosa? Hai detto qualcosa? Curioso, non è vero? Facile, ora. Ok, la curiosità che ho ucciso il gatto. Insomma, vabbè. Risorse raccolte. È tempo di costruire strutture che ci permetteranno di... Vabbè, intanto scusate, intanto scavo questo che mentre leggo. Di favorire, diciamo, i movimenti attraverso l'inferno. Scale, pavimenti, queste cose. Ti faranno creare nuovi livelli su cui, per esempio, potrai posizionare delle strutture. Per costruire, vai sull'icona di costruzione, nella barra veloce e costruisci la basic one. Ok, questa qua. Va bene. Costruisci... Action bar. Vediamo un po'. Scegli una categoria di quello che vuoi costruire, però ora usa... Ok, quella lì. Quella è la basic. Ok. Facciamo il floor fragment. Build. Ah, ok. Interessante. Però non possiamo costruire dove vogliamo. Ah, sì, qua, qua sì. E poi una scala. Facciamo così, va. E poi facciamo anche una scala. Build. Basic. È grezzo, è ancora il gioco, devo dire. Però... Ci sta. E qua non si può costruire, perché? Cioè, non ce la fa connettere? Ah, avrei dovuto forse... Vabbè. Hai già costruito? Stai scherzando? Significa... Voglio dire, buon lavoro, candidato. La torcia è uno degli oggetti base e farà... Ok, tu... Va bene. Così mi sfugge che cosa voglia dire. Comunque mi fido. Faccio la torcia. Tac. La mettiamo qui. Ok. Ah, dovete salire lì. Ok. Allora, niente. Facciamo una cosa. Vi faccio fare una scala. Così mi andate a posizionare anche la scala, eh. E distruggete questo, che... Ok. Così almeno mi fate anche la torcia. Bravi, ragazzi. Molto bene. Vedo che ho raggiunto già la costruzione della torcia. Mi fa bruciare di rub... Eh, orgoglio. Sono impressionato. È tempo di imparare qualcosa a proposito delle carte dei personaggi. Aprilo. Cliccando su uno dei peccatori. Ok. C'è un'icona verde. Nell'alto... In alto a destra. È uno dei modificatori che ti informa di ogni... Ah, che ogni nuovo peccatore ha un periodo di protezione. Ehm... Ah, ok. Cioè, che cacchio vuol dire? Ah, follow camera. Vabbè. Sotto fortitude... Sotto fortitude... Il livello di... Ah, ok, ok. Fortitude... Ah, indica il livello. Ah, ok. E cresce automaticamente durante le torture. Meglio le torture sono fatte più un peccatore fa salire la sua fortitude. In pratica parte dallo slope, diventa a thread e poi amico del diavolo. Va bene. Ci sono simili icone per le torture. Per prendere piena conoscenza dell'efficienza devi compararle. Se un livello di un peccatore è simile, come la struttura, l'efficienza sarà maxata. Ok. Se un livello del peccatore è più basso di una struttura, la sua efficienza diminuisce. Tuttavia, se il livello di un peccatore è più alta di una struttura, la sua efficienza cresce. Ma solo per un momento, perché il peccatore diventerà stanco presto. Puoi trovare quello che hanno bisogno i peccatori sotto la loro fortitude. Infatti è qui. Va bene. Molto bene. Cosa dobbiamo fare adesso? Ce lo dirò. Generalmente più alto è meglio. Ok, va bene. Ok. Ora, dare uno sguardo sull'altro lato delle carte. Apre la seconda tab. Sull'icona dei muscoli, insomma. I tratti si trovano in cima. Sono chiave durante le torture. Ogni peccatore ha una percentuale di... Ok. Delle varie specifiche. Indica quanto più sofferenza... Suffering, cioè questa, genereranno... Ah, ok, ok. Ricorda che... Deve essere... Ah, ok. Deve avere la stessa... Ok. È interessante questa feature. Le skill sono ok. Abbastanza. Va bene. Va bene. Cosa devo fare? Collect dirt metal. Ah, ancora. E devo ancora costruire. Ok. Perché faremo le torture adesso. Quindi, dig. Dig scava qui. E poi scavate qui. E poi qui. Allora, in pratica ho visto che uno aveva sangue. Vediamo poi se... C'è anche la ricerca. La richiede anche un bel po' di materiali. Eccole lì le torture. Tortures. Ah, la vergine di ferro. Il bagno dei re. Ah, dove vengono bolliti e generano... Ah, figo. Figo. Cioè, praticamente non credo ci sia una sorta di gestione dell'elettricità, insomma. Vabbè. Tra un minuto e mezzo arrivano altri peccatori. Quindi... Questo video è un primo sguardo, diciamo, quello che è questo titolo. Ovviamente andrà tenuto d'occhio durante quest'anno. Hai già collezionato tutte le risorse. Spero che tu bruci... Eh... Rispetto. Tutto lo meriti, insomma. Ci sta cercando di insultare. Non nasconde di disprezzarci. Ora che tu hai raccolto le risorse, è tempo di costruire il tuo primo dispositivo di tortura. Spero che tu ti ricordi come farlo. Se no, te lo dico ancora. Va bene. I got it. Allora, voglio costruire il mio primo dispositivo di tortura. Voglio fare la vergine di ferro. Che piazzeremo esattamente qui. La piazziamo a cazzo, proprio lì, così. Vai. Uno solo che va a fare quello. Perché adesso io non so se ci sia modo di... Al momento manca ancora abbastanza grezzino come menu. Anche come grafica, molto molto stilizzato. Ok, l'ha costruita. Ok. Pronto per... Ok. Allora, clicca sull'Iron Maiden o sulla Vergine di Ferro. Ora, guarda il... Lo slot vuoto in basso. Ok. Clicca sul verde, il più verde sotto. E assegna il tuo primo peccatore per generare... Ok. Eh, eh, ok. Ah, beh, giustamente siamo all'inferno. Quindi lui sta dentro, soffre le pene dell'inferno e ci genera suffering, sofferenza. Vedo che la produzione è iniziata e sta salendo piuttosto bene. Ora, parliamo per un secondo. Eh, guarda il cycle block. Questo. Allora, lo cycle block è il card. Dalla sinistra possiamo vedere sim silhouette. Ma dove? Sim silhouette. Ah, questo. Cycle. Ok. Ok, sì. Il numero di silhouette 1-3 è il numero di... Ok. Ok. Di persone assegnate da 1-3. Ah, ok. Ok. Uno. Ok. E... Dipende dal... Ok, il ciclo è il tempo che produce ogni cosa. Ok? La prossima icona rappresenta la durata del ciclo. Più corto è il ciclo, più facile. E che si riempia più rapidamente. Sotto il ciclo c'è il pannello del peccatore. Che già conosci. Clicca il più sotto un ritratto vuoto. E farai sì che va bene. C'è un altro modo per farlo. Clicca e trascina un sim per un momento. Ok. Ah... Figo. Un po' alla... Dungeon Keeper. I peccatori possono lasciare le strutture in due modi. Quando tu le rilasci manualmente cliccando sulla X rossa sotto. Quando hanno bisogno... Quando raggiungono un livello critico. Ah, ok. Cioè, Adam... Sta iniziando a... Vabbè. Insomma, soffrirà le pene dell'inferno. Allora. Clicca sulla Cog Icon. Che cos'è la Cog Icon? Scusate. Open Second Tab. Questa. Ah, ok. La rotella. Sì. Ok. Vediamo un po'. I tratti... I tratti che ti vedi sono già stati spiegati. Sì, va bene. Ma come pre-memoria. Assicurati che i Sima abbiano gli stessi. Ok. Ok. Perfetto. Guarda lo stat panel sotto i tratti. Ok. Che qua ha coperto. Scusate, ma vorrei... Ok. Va bene. La nota sulla destra è più importante. Ok. Vabbè. Questo ci dovremmo studiare, insomma. Come funzionano. Intanto sono arrivati altri peccatori, insomma. Sì, ne è arrivato un altro. Salve. Potrebbe venire con me? Trascino dentro lui. Vediamo un po'. No. Non me l'ha trascinato. Vediamo un po' se riesco a mollarlo lì. Eh no. Ah, gli posso trascinare una sorta di anima fuori. Vabbè. Quindi? Collect Suffering. Ok. Dobbiamo collezionare anche un po' di terra ancora. Quindi io gli dico agli altri di scavare. Scavate qui. Tu invece se gli fa niente, scavami questo tu intanto. Dai. Che a breve... Ok. Dovremmo aver raggiunto... Ok. Vuoi... Vuoi farti un costruttore privato? Ok. Ok, ora. Build a paper box. Ok. Vediamo un po' dove costruirlo, questo paper box. Vediamo soprattutto dove... Torcia? No. Vediamo un po' le strutture. Ci sono il bagno dei rai, insomma, che è dove faremo bollire. La farm di carne morta. Il calderone. Il tote. Non so cosa sia. Refinement. Non l'abbiamo ancora scoperto. Drink. La latarina. Lo squeezer del... Il secchio di metallo. Le camere dove dormire. Paper box. Eccola qua. La facciamo qui. Sì, qua non è che si privilegi molto la comodità, insomma. Sembra davvero carino per quanto abbia delle meccaniche un po' strane. Tra l'altro qua vedete che ci sono anche i diavoli. Diavoli e peccatori. Quindi dobbiamo proprio farli salire di livello, questi tizi qui. Sti poveretti qua. Infatti adesso non so se mi sembra un pelino bianco. Cioè sta forse salendo un pochino. E... Ma non so se arriveranno diavoli o se... Vabbè. Continuiamo. Ok. Click on the proper box. Ok. Ah, si dorme nei cartoni qua all'inferno. Ok. Conosci già il ciclo come funziona? Ok. Perchè infatti ci abbiamo cliccato il proper box qua. Allora non ti parlerò del ciclo. Del cycle. La differenza è che... Non i sims... Ok. Non influenza la durata. È sempre lo stesso. Ok. Sotto... Puoi assegnare un peccatore manualmente. Per soddisfare i suoi bisogni. Ah, qua sta facendo i cicli. Scusa, c'è dentro già qualcuno che dorme? Eh sì. È già andato... È andato a dormire. Ok. Open second tab. Ok. Vediamo il second tab. Ok. All'inizio... È un po'... Un po' lungo. Cioè non è così banale, devo dire. All'inizio... Ok. Cioè non patente di sogno. Ah, ok. Si è riposato e adesso è andato di nuovo. Le statistiche sono molto semplici. Va bene. Ok, raccogliamo le risorse e faremo una toilet adesso. Quindi mi serve metallo. Metallo, metallo, metallo. Scavate questi. Ah, non mi fa scavare dove non si può? Insomma... Adam, dove è andato? Tu. Posso trascinarti lì? Sì. Però vediamo se hai abbastanza... Le richieste. Blood, calore... No, direi che tu non vai bene. Tu? Blood, hit, dark... No. Vabbè. Intanto lascio lui a generare suffering. Che... È importante. Vale anche come valuta, come sorta di ricchezza. Come moneta. Io credo, quindi... Ok. Abbiamo accumulato risorse. Le risorse che ci servivano. Ok. Credo che ci servano i bagni adesso. Quindi... Vediamo un po' se abbiamo... La possibilità di fare il bagno. Dov'è il toilet? Aspetta... No. È il frutto poi vita. Cioè, nella ricerca. Ok. Ok. No. Voglio vedere dove sono... I... Simple Latrine. Ah. Producono escrementi. Cioè, inizia a... A diventare complicata la cosa. Non posso costruirlo, questo? Perché? Ah, mi serve 50 di terra. Sono un babbano. Pensavo di aver già raccolto tutto. No? Ok. Allora, facciamo così. Scavate qua. Sì, poi veramente fa una pena. Perché li vedi? Sono simpatici i disegni, eh. Però... Ok. Costruisci la latrina semplice. Allora, facciamo la latrina semplice. Che era qua. La latrina semplice la mettiamo qua. Ah, non sapete salire. Ok. Sì, sono molto stupidi qua, dire la verità. Non si ha... Non si... Si, diciamo, arrampicano solo sul diagonale. Al momento sarà un'altra cosa da fixare, anche questa. Poi, beh, invece arriva un altro peccatore. Di nuovo. Stiamo costruendo la latrina. Celeggiamo un pochino il tempo. Si presterebbe bene anche una live, questo titolo. Se solo non facesse realmente un calore dell'inferno. Ok. Probabilmente Lucifer lo sarebbe contento della tua efficienza. Grazie. Cliccando sulla struttura... Ehm... Apri un controllo di produzione. La prima pagina è una coppia della Torture Card. Ok. Guarda... L'altro. L'altro. Ok. Sappiamo che le strutture producono, tuttavia... Quanto devono produrre esattamente? Puoi vederlo guardando l'ammontare qua. Ah, ok. Puoi vedere... Ok. Ah, ogni ciclo. Ok. Eppuremente in fase... Ah, ok. Mentre... Ok. Water Squeezer. Ok. Dobbiamo raccogliere tantissima terra ancora perché ci sta facendo costruire tutto. Io non vorrei che poi magari la demo finisce nel momento in cui abbiamo costruito tutto il costruibile. Intanto... Intanto qua... Ok. Infatti vedete che qua è richiesto il livello 1 per renderlo più efficiente. Lui deve essere più basso o dello stesso livello, io credo. E quindi questo... Eh, non sta salendo tanto, eh. Vediamo un po'. Abel. Abel. Non è... Eh, neanche lui è alto. Adam, dov'è? Adam è qua. Kane. Abel. Ma... Non c'era anche Adam una volta. Va bene. Abbiamo costruito tutto? Credo. Sì. Ok. Costruiamo il Water Squeezer che dovrebbe essere qua. Allora. Questo produce escrementi, questo produce acqua sporca. Ok. Costruite. Sì, i disegni qua sono chiaramente, credo, ispirati anche a Oxygen Not Included. È innegabile questo. Fatto già. Ok. Devi assegnare qualcuno a lavorare. Clicca sulla macchina. Ok. Devi cliccare qualcuno. Ok. Ah, si mette a produrre acqua. Ok. Usando che cosa, però? Ho assegnato qualcuno, ma... Ah, ok. Deve arrivare. Ah, usando la cacca. Ok. Praticamente usano questa, producono lì, nel giro di un ciclo. Quindi, 19, 20... Prendiamo 25. Produciamo un'acqua. Ok. Infatti, dovremmo averla generata... No, non ancora. Non ancora. Non abbiamo abbastanza cacchina, mi sa. Vediamo un po'. Root beer. Acqua. Dirty water. Ah, no, no. Ok, sì. La stiamo producendo, perché vedete che c'è qua. Ok. Eh, l'abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto una persona al water squeeze. Adesso vediamo se riesco a mandare qualcun altro. No, non me lo fa aggiungere. Dice che è già pieno. Vediamo un po' i bisogni. Eh, è abbastanza... Non è semplicissimo, ne devo dire. Posso assegnare a te qua? No. Can't do it. No, perché va... No, assegno una persona anche qui. Ok. Ah, allora intanto si mette a produrre un po' di roba. Ok, perfetto. Aggiungi un sin. Eh, l'ho già fatto, cavoli. Adesso. Water squeeze è lì. Ok. Salto tutto. Open second tab. Di questo. Sì, l'ho già aperto prima. Ok, mi sta spiegando quello che vi ho detto. Ok, e ora dobbiamo produrre... Dobbiamo scavare un'altra terra. Quindi andiamo avanti a scavare un'altra terra. Tutti i materiali c'è qua. Ci sono qua. Vediamo. Sotto va avanti. Ci sono anche i cristalli. Poi si arriva qua che è la fine. Però al momento non vedo nulla sotto di interessante. Quindi, vabbè, dovrebbe finirli così. Non mi produce più peccatori adesso. No? Sembrerebbe di no. Abbiamo scavato. Mancano metalli, metalli, metalli. Quindi andiamo avanti. Scava qui. Scava avanti. Scava anche lì. Poi magari scava anche qua. Così magari evitiamo di rimanere incastrati di sotto. Sì, è fastidioso sentire sto qua che soffre. Ok. Costruisci un secchio di metal. Metal bucket. Lo usano per dissetarsi con l'acqua sporca. Ok, la metto qua. Acceleriamo il tempo così magari andiamo avanti anche abbastanza rapidamente. Scusatemi, ogni tanto devo accendere il ventilatore perché sto veramente friggendo. Già costruito. Perfetto. Open metal bucket card. Ok. Adam. Ti sposti per cortesia che devo cliccare su... Ok. Che cosa... Allora, consumo del cibo. Ok. Ah, ok. Praticamente qua si usa questa. Produce l'acqua sporca. Ci assegna un tizio. E praticamente iniziamo la produzione di... No, beve, 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 beve. Beve, si disseta. Bravo. Bravo, ragazzo. Va bene. Devo collezionare un'altra terra. La terra veramente ce ne serve un botto e non ne abbiamo. Mai. Adesso vediamo quanto tempo ci mettiamo a farla. Ah, ma sale rapidamente. Dobbiamo farne cento, ma direi che stiamo già andando a gonfie vela. Adesso io scavo ancora qua. Poi magari continuiamo il tunnel di là appena... Sì, terra ne serve veramente tantissima. Potatoes. È interessante, è interessante. Non sono tantissime le strutture, però è senz'altro una bella rivelazione questo titolo. Undici ancora di terra. Vediamo un po'. Novantasette. Adesso arriveremo a cento. Per effetto sto anche saltando il tutorial perché mi sembrano solo discussioni. costruisci una... Ah, ok. Ci fa fare gol per il cibo. Flash farm. E quindi la carne marcia. La facciamo qua sotto il gradino, eh. Costruitemela rapidamente. Chissà che cosa usa per fare la carne marcia. Ok. Open. Sì. Processa che cosa? Ah, la terra. La terra. Ah. Ok. Produci suffering, metal, dirt. Ah, ok. Qua produce quello. Va bene. Niente di spettacolare. Neanche quello. Non è molto fantasiosa come cosa. Ok. Scavami questo. Scava anche questo. Scavate tutto qua. Che adesso dovremmo aver finito la produzione di cibo. Mi manca forse il calderone. Stiamo spendendo, vedete, anche suffering. Quindi come in oxygen c'è qualcuno che continua a girare sulla ruota. O comunque va a ottimizzare la produzione di energia. Qua c'è qualcuno che va a generare sofferenza all'interno della trappola. E poi è lì che piange perché siamo all'inferno. Alla fine non è che si può pretendere di... Tu stai salendo un po' di livello o no? No, direi 12 su 150. Quindi diciamo che ce ne vorrà un po' per farlo salire. Metallo 20, 60. Ok, dovremmo essere a posto, no? 68 su 60, 20 su 15. Sì, abbiamo prodotto tutto. Tutto quello che serviva. No? Boh, continuate a scavare. Che è successo qua? Perché ci sono i punti esclamativi? No resources. E producete un po' di cacchina però, eh. A favore. Cerchiamo un volontario, produciamo, ma... Ok. Ma abbiamo già le risorse. E infatti costruisci il calderone. Costruisci il calderone. E poi questo. Calderone è dove andranno a mangiare la carne marcia. Quindi mi sembra tutto anche abbastanza in linea. Beh, io vi dico ragazzi. Ora io mi fermo qui. Fatemi sapere se volete vedere. Io intanto salvo perché... Mi interessa comunque tenerlo lì e continuarlo. Se vi va di vederlo. Per intanto, se non vi va di vederlo, spero che chi lo ha visto e gli è piaciuto, magari gli venga voglia di scaricare la demo. Perché di demo trattasi. Quindi chiunque lo può giocare, insomma. Ho svolto un pochino il compito di divulgatore, in questo caso, facendovi scoprire un titolo. Non è originale per quanto riguarda il tipo di gioco. Lo è, secondo me, per quanto riguarda la tematica dell'inferno. Con la produzione di sofferenza, insomma. Bisogna capire per che cosa servirà questo devils. Quindi il numero di diavoli, insomma. Quello che è. Quello che è poi, vabbè, le torture. Ce ne sono alcune. Beh, a dire la verità, ce ne sono ben quattro pagine. Quindi un po' ce ne sono. Le basic, anche lì, ce ne sono un po'. Food, anche qua, ce ne sono un po'. E direi che almeno 16 strutture. Cioè, ce ne sono già un po', se già ci sono. Soprattutto stanze da letto. E poi la ricerca. Che è anche qui molto interessante. Soprattutto perché io vedo che ogni cosa... Ok, no. Uno, uno, uno. Si può magari far salire di livello. Ricerca. E la ricerca... Ok, ci va a sbloccare le altre cose. Quindi i menu sono molto essenziali. Sembra abbastanza complicata. Cioè, complicata la gestione magari dell'esperienza dei personaggi e così via. Però intanto, ecco, questo era El Architect. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E alla prossima, ragazzi. E ciao, ciao.